Allora Michele, è stata una bella partita, anche se è un 3 a 2 che amareggia, però dal terzo e quarto sette avete mostrato davvero grande carattere. Ecco, questa è una cosa importante, questo ci serviva perché venivamo da prestazioni abbastanza in colore da un punto di vista non tanto tecnico quanto caratteriale. Stasera abbiamo dimostrato che evidentemente qualcosa ce l'abbiamo, ci serve la partita di stasera per proseguire il campionato, soprattutto per Noci, sono chiaramente amareggiato perché abbiamo regalato 3 punti alla fine in maniera molto ingenua, tutto qua. Tra l'altro poi ha una reazione nei primi due sette in cui non sono stati proprio idiliaci per voi, poi dal terzo in poi si è vista una maggiore spinta agonistica delle ragazze. Certo, certo, questo è vero perché le ragazze poi alla fine loro stesse hanno cominciato a crederci nei propri mezzi, io di questo sono contento perché dopo tutto in campo ci vanno loro e sono contento soprattutto per loro perché in palestra stanno lavorando. Adesso una settimana di andamento e poi il prossimo weekend in trasferta Michele. Adesso dobbiamo lavorare veramente bene perché questa partita non ci deve far illudere assolutamente di niente. Il lavoro paga sempre, su questa base dobbiamo partire per far bene tutta questa settimana spingendo molto di più sull'acceleratore. Grazie.